Un cliente che, diciamo che più che un cliente, è diventato un amico ormai. L'ho dovuto prendere di forza e tirarlo qua perché non se la sentiva di stare da solo davanti a una telecamera con un microfono. Ti faccio le domande. Nome? Matteo Bartoletti Azienda? Sky Sound SRL Zona? Massarosa a Viareggio Beh, siamo in un evento audio professionale. Poi raccontaci brevemente qual è il tuo core business. Più che altro le installazioni audio-video legate sia al mondo del yachting che alle installazioni tipo home, casa e con sistemi di domotica. Domanda tra bocchetto. Qual è il tuo prodotto preferito Yamaha? Ma il prodotto preferito sono tutto il sistema MusicCast legato a tutta la serie VXC del consumer. Per quanto riguarda professionale invece i DSP che insomma i MTX sono fenomenali e funzionano bene e mi coprono, risolvono molti problemi. Di quello che abbiamo visto oggi, giustamente mi suggerivo alla domanda, cos'è quello che ti è piaciuto di più o magari l'innovazione che hai trovato più, magari più, che è più vicina, più incline a quelle che sono le tue esigenze? Ma gestendo anche da parte del conference, questi microfoni molto compatti, piccolini. I Unified Communication, i Revolabs? Sì, è la prima volta che li vedo, insomma mi sembra un ottimo prodotto funzionale, sono compatti, leggeri, quindi una bella novità. Oltre al diffusore è la NRA che al momento non l'avevo ancora visto direttamente con voi. Dobbiamo solo andare a trovarle e provarle insieme. Certo.